Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in diminuzione seppur con intensità diverse, fa notare l'Istat, la sfera economica, relativa allo scenario italiano, e quella futura, che misura le attese, registrano un calo più deciso, rispettivamente da 143,3 a 139,2 e da 121,6 a 119,8 Mentre, il deterioramento è più contenuto, per quel che riguarda da più vicino le famiglie, la cosiddetta, componente personale, da 105,9 a 105,7 e quella, corrente, sulla situazione del momento da 111,5 a 110,1 Passando alle imprese, anche in questo caso si interrompe una fase di crescita dell'ottimismo che proseguiva ininterrotta da tre mesi L'andamento non è però uguale in un tutti i comparti Anzi, l'Istituto di Statistica parla esplicitamente di «segnali eterogenei» In particolare, sottolinea, il clima di fiducia rimane sostanzialmente stabile nel settore manifatturiero da 110,9 a 110,8 Aumenta nelle costruzioni e nei servizi rispettivamente, da 130,3 a 132,1 e da 107,7 a 108,2 Invece, il commercio al dettaglio registra una diminuzione da 113,2 a 110,0 Una pessima notizia per l'economia italiana Così il Codacons giudica il calo della fiducia dei consumatori registrato a novembre dall'Istat Dopo una serie di rialzi che attestavano un generale clima di ottimismo sul futuro da parte delle famiglie italiane Arriva una doccia fredda, con la fiducia che a novembre registra un inatteso calo Spiega il presidente Carlo Rienzi «Si tratta di una pessima notizia soprattutto perché la diminuzione dell'indice arriva ridosso delle festività natalizie E potrebbe avere effetti deleteri sui consumi dei cittadini Portando le famiglie a ridurre la spesa e rimandare gli acquisti al futuro 27 novembre 2017 Modifica il 27 novembre 2017 1105 Diritti d'autore Riproduzione riservata Segui Corriere su Facebook Riproduzione riservata Rip discard